Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato al Monza e a quello che sarà il prossimo allenatore che siederà sulla panchina Brianzola è stato annunciato quest'oggi da Adriano Galliani e sarà Alessandro Nesta, nome che già si vociferava insomma nei giorni scorsi ma che da oggi è ufficiale si hanno i dettagli anche del contratto, quindi in questo video vi vado a dire qual è il contratto che ha firmato Nesta che è un contratto annuale, quindi fino a 2025, con opzione per un ulteriore anno automatica, cioè quindi un rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni, proprio sul comunicato ufficiale del Monza c'è scritto questo, cioè al verificarsi di determinate condizioni non sono state specificate le condizioni, quindi non so dirvi se la condizione sia la salvezza, il posizionamento in classifica specifico un raggiungimento in Coppa Italia non si sa, fatto sta che è un contratto di 1-1 con il più 1 da valutare perché ancora non è stato annunciato Nesta sarà quindi il nuovo allenatore del Monza che arriva al posto di Palladino che dopo due anni saluta il Monza ed è andato direzione Firenze, trovate sul mio canale il video dedicato a Palladino alla Fiorentina ma oggi si parla di Nesta e del Monza di come il Monza può cambiare con l'arrivo di Nesta perché c'è un Nesta pre-Reggiana e un Nesta post-Reggiana quindi si sta parlando di un allenatore che l'ultima stagione ha avuto uno stravolgimento importante soprattutto dal punto di vista tattico quindi lo andiamo ad analizzare e cosa può portare al Monza, come può cambiare il Monza anche dal punto di vista del calciomercato quest'estate e come potrà cambiare anche Nesta con il Monza, quindi valutiamo un pochino il nuovo Monza di Alessandro Nesta Cominciamo con la carriera di Nesta, da allenatore ovviamente perché da giocatore non c'è bisogno di presentarlo come ha detto giustamente anche Galliani in conferenza, tutti conoscono Nesta da calciatore, un esempio, uno dei migliori difensori al mondo della sua generazione, è stato proprio preso come riferimento anche da tutti i giovani che oggi giocano e tanti hanno Nesta come riferimento quindi non c'è bisogno di presentarlo la cosa diciamo particolare è che Galliani quando era al Milan, direttore sportivo del Milan, lo comprò dalla Lazio come giocatore quindi è stato giocatore di Galliani e adesso è allenatore proprio di Galliani ma parliamone da allenatore, Nesta da allenatore ha iniziato ad allenare in MLS, campionato americano con i Miami due stagioni ha fatto con i Miami, tra l'altro nella seconda ha vinto il campionato per poi meritarsi, diciamo, la chiamata in Italia giocatore che chiaramente, cioè scusate, allenatore chiaramente avendo il curriculum da giocatore non voglio dire abbia una corsia preferenziale ma quasi, nel senso che gli ex campioni del mondo gli ex iper campioni del calcio in Italia hanno una corsia preferenziale rispetto a quelli che partano dalla serie D quindi ha avuto questa chance Nesta che è stato chiamato al Perugia in una situazione assurda perché Nesta è stato chiamato dal Perugia l'ultima giornata di campionato con il Perugia già matematicamente sicuro dei play-off e quindi ha allenato per una partita di campionato persa e per la prima partita dei play-off contro il Venezia persa quindi diciamo che l'inizio di carriera di Nesta al Perugia non è stato esaltante ma il Perugia l'aveva preso per la stagione successiva Nesta è stato confermato sulla panchina del Perugia dove ha allenato per tutta la stagione, è arrivato in fondo al campionato riguadagnandosi i play-off con il Perugia e venendo eliminato al primo turno dal Verona però un esordio importante in panchina in Italia per Nesta che ha raggiunto i play-off alla sua prima stagione da allenatore con il Perugia che con tutto il rispetto comunque non era una squadra sicura di arrivare ai play-off quindi un buonissimo risultato si è meritato quindi la chiamata per l'anno successivo del Frosinone Frosinone che invece è squadra ambiziosa squadra che punta alla promozione ai play-off ebbene il primo anno con il Frosinone Nesta ha raggiunto nuovamente i play-off sempre a pelo, cioè ottavo in classifica ha raggiunto i play-off però stavolta nei play-off invece che essere eliminato all'ultimo insomma al primo turno è arrivato fino alla finale dove ha perso, in realtà non ha perso ha pareggiato diciamo lo scontro con lo Spezia 1-0-0-1 però a fronte del miglior posizionamento in classifica dello Spezia nella classifica di fine campionato è venuto in Serie A lo Spezia il Frosinone si è leccato le ferite però una buona stagione assolutamente del Frosinone che è arrivato a un centimetro dalla promozione in Serie A e quindi Nesta si è guadagnato la permanenza anche per l'anno successivo al Frosinone dove però poi è arrivato l'esonero perché il Frosinone era a metà classifica era quasi più vicino alla zona play-out che la zona play-off anche se chiaramente in Serie B la zona play-off e la zona play-out sono molto vicine però la seconda stagione non è andata bene come la prima e quindi Nesta è stato esonerato ed è stato il suo unico esonero in carriera perché l'unico esonero che Nesta ha registrato in carriera è stato questo, quello della seconda stagione al Frosinone da quella stagione lì Nesta si è fermato perché era marzo del 2021 e fino a quest'anno, quindi fino a agosto del 2023 Nesta non ha più allenato quindi questa pausa l'ha portato poi sulla panchina della Reggiana che neopromossa in Serie B, tornata in Serie B si è affidata a Nesta e qui c'è stato il grande cambiamento di Nesta anche dal punto di vista tattico ma ora lo andremo a valutare che ha portato la Reggiana da neopromossa a fare un dignitosissimo campionato arrivando undicesima in campionato sfiorando anche in certi momenti della stagione la zona playoff che da neopromossa è tanta 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 roba con un calcio particolare che ora andremo a valutare con delle scelte anche particolari che ora andremo a valutare però una stagione di assoluto rispetto per Nesta sulla panchina della Reggiana dopo questo anno e mezzo diciamo sabbatico che ha portato appunto il Monza a voler puntare su di lui quindi è arrivato questo salto di qualità anche inaspettato diciamoci la verità perché comunque un allenatore che era stato fermo per tanto tempo diciamo nelle dinamiche del calcio un anno e mezzo, due anni di sabbatici sono tanta roba quindi è stato fermo per un bel po' ha fatto una buona annata in Serie B con una neopromossa però tutto ti aspettavi tranne che la chiamata in Serie A di una squadra che nelle ultime due stagioni è arrivata a metà classifica quindi è anche una squadra prestigiosa del nostro campionato di questi ultimi due anni quindi una chiamata importante per Nesta è una grande occasione per lui è chiaramente una chiamata diciamo rischiosa nel senso che è un esordiente in Serie A chiaramente da qualche parte bisogna iniziare non è che tutti quelli che allenano in Serie A hanno fatto una loro prima partita in Serie A quindi la prima partita del Nesta in Serie A sarà la giornata di apertura del campionato 24-25 del Monza però chiaramente porta con sé dei rischi perché quando tutti affidiano a un allenatore che non ha esperienza nella categoria ci sono tutta una serie di variabili che possono impattare negativamente poi anche sulla stagione però d'altro canto come ha detto giustamente Galliani e Palladino che è stato una grande rivelazione sulla panchina del Monza in questi due anni non aveva mai allenato neanche nelle leghe inferiori perché Palladino non aveva mai allenato nel calcio professionistico prima di arrivare sulla panchina del Monza perché allenava la primavera che non è calcio professionistico quindi Palladino ha esordito come allenatore professionista in Serie A eppure ha fatto benissimo quindi se un allenatore ha il carisma giusto ha la preparazione tecnica o tattica giusta è un allenatore con le idee ben precise che sa anche dialogare con la dirigenza può tranquillamente anche avere un impatto importante Nesta non è una scommessa così clamorosa così assurda come fu quella di Palladino perché è un allenatore che comunque ha degli anni in Serie B di... nel suo bagaglio insomma c'ha un centinaio di partite in Serie B e trovate sul mio canale il video dedicato a Baroni Sponda Lazio ecco Baroni se voi vi andate a vedere la carriera di Baroni di allenatore praticamente ogni anno cambiava squadra e veniva esonerato cioè come invece vi ho detto poco fa Nesta l'unico esonero che ha registrato è stata la seconda stagione con il Frosinone perché non stava facendo quello che il Frosinone si aspettava non è che stava retrocedendo però era metà classifica e il Frosinone aveva ben altre ambizioni e quindi è stato allontanato l'allenatore però in cinque anni di quattro perché poi vabbè il primo anno con il Perugia non conta però in quattro anni sulla panchina degli squadri di Serie B è stato esonerato una volta a metà campionato quindi comunque si sta parlando di un allenatore che dovunque è stato ha fatto comunque bene anche se in una Lega inferiore quindi non è comunque una scommessa totale è un allenatore che la sua esperienza ce l'ha comunque ok che essere allenatore e essere giocatore sono due cose diverse però è uno che c'ha 80 partite con la nazionale non so 4-500 partite in Serie A Champions e tutto il resto un giocatore che comunque le pressioni del calcio è abituato a gestirle di alto livello intendo per cui non c'è quello anche se chiaramente cambia la prospettiva perché adesso sei in giacca e cravatta e sei seduto in panchina però comunque determinate dinamiche le conosce anche a livello di spogliatoio chiaramente le vedeva da un altro lato però chi ha avuto grandi allenatori parte avvantaggiato rispetto a chi magari quel tipo di carriera non l'ha potuta fare non sto dicendo che tu diventi una copia di quell'allenatore non sto dicendo questo però determinate situazioni di gestione dello spogliatoio dei calciatori trucchi in allenamento qualsiasi cosa puoi aver carpito tanto se sei stato un grande calciatore e quindi hai avuto l'opportunità di allenarti con altri grandi calciatori insieme a grandi allenatori e staff iperpreparati di alto livello quindi comunque questi sono dei vantaggi non da poco ed è il motivo per cui gli ex grandi calciatori spesso hanno la corsia preferenziale perché appunto questo bagaglio di esperienza possono portarselo poi anche in panchina quando diventano allenatori quindi c'è chiaramente una componente di rischio è normale inutile negarlo però è una componente di rischio secondo me adeguatamente ponderata non si sta parlando di uno sprovveduto Nesta il suo ha dimostrato di saperlo fare in serie B ed è un campionato complesso dove sostanzialmente non ha mai fallito rovinosamente per cui il biglietto della visita comunque è positivo veniamo però all'aspetto tattico che poi è la cosa che ci interessa un po' di più Nesta che con il Perugia e con il Frosinone ha sempre giocato con la difesa a 4 spesso 4-3-1-2 quindi il modulo diciamo del Milan di Berlusconi dove lui ha raggiunto l'apice della carriera a parte anche la Lazio ha fatto molto bene però diciamo l'apice della carriera il giocatore conosciuto da tutti anche fuori dall'Italia lo è stato con la maglia del Milan e il modulo diciamo prediletto di quel Milan era o il 4-3-1-2 o il 4-3-2-1 quindi ha iniziato ad allenare con quel modulo lì come vi dicevo però la grande svolta è arrivata quest'anno con la Reggiana dove ha sposato un altro sistema di gioco probabilmente dovuto anche al fatto che gli obiettivi di classifica rispetto a Perugia e Frosinone fossero differenti cioè Perugia e Frosinone erano squadre che comunque puntavano alla parte sinistra della classifica e Frosinone puntava alla promozione quindi c'era bisogno di fare un altro tipo di calcio di ottenere un altro tipo di risultati mentre invece la Reggiana era una squadra che era impostata sulla salvezza quindi era una neopromossa che aveva come obiettivo quello di rimanere in serie B quindi magari è stato questo cambiamento è stato anche dovuto a questa necessità diciamo di classifica fatto sta che la Reggiana quest'anno ha giocato tutto il campionato con praticamente tutto il campionato con il 3-5-2 o variabili del 3-5-2 quindi 3-4-2-1 5-3-1-1 cioè con gli esterni centrocampo molto più bassi in alcune partite di sofferenza delle variabili di questo tipo ma rimane il fatto che la formazione diciamo standard è stata il 3-5-2 quindi un modulo similare a quello del Monza della promozione con Stroppa e del Monza fino a tre mesi fa di Palladino che ha preso in mano la squadra portandola avanti appunto con il 3-5-2 fino a tre mesi fa quando Palladino ha inspiegabilmente deciso di cambiare modulo e di passare al 4-2-3-1 dove il Monza poi non ha più non ha più registrato risultati positivi credo la media punti con il 4-2-3-1 in Monza sia inferiore al mezzo punto a partita cioè è stato veramente un trend terrificante quello del Monza con quel modulo è chiaro che il Monza ha reso molto di più con il 3-5-2 che è lo stesso modulo che ha fatto Nesta quest'anno alla Reggiana le particolarità di questo modulo sono innanzitutto la scelta diciamo confermata per quasi tutta la stagione del doppio regista la Reggiana ha giocato quasi sempre quando ha potuto ovviamente quando la condizione atletica glielo ha permesso con il doppio regista Cigarini Bianco Bianco un prestito alla Fiorentina è un giovane che però ha capacità di regia e di dettare tempi di gioco Cigarini lo conosciamo tutti insomma ha tantissime presenze in Serie A è sempre stato un giocatore davanti alla difesa che appunto imposta la manovra quindi la scelta di Nesta di giocare con il doppio regista anche se con una carta di identità insomma completamente diversa uno di grandissima esperienza uno giovane però è stata una scelta fondata quando mancava uno dei due principalmente quello che è mancato più spesso è stato Cigarini giocava Kabashi che era un altro giocatore comunque di ordine davanti alla difesa quindi la scelta di giocare con due giocatori di ordine di impostazione è stata proprio concreta proprio ben delimitata non è stata mai messa in discussione e questa diciamo è la prima principale particolarità la difesa molto fisica una difesa magari non particolarmente rapida non particolarmente tecnica ma molto fisica molto e molto bassa anche come come baricentro gli esterni di centrocampo che sono quasi sempre stati calciatori di ex terzini calciatori cresciuti penso ad esempio a Fiamozzi giocatore che è cresciuto appunto come terzino di difesa a 4 tant'è che molto spesso la reggiana ha giocato con la difesa a 5 quindi l'impostazione è stata questa e una punta unica quindi è un 3-5-2 che poi in realtà è più un 3-5-1-1 perché spesso ha giocato Portanova sotto punta a volte ha giocato Melegoni come centrocampista diciamo di raccordo tra la linea della mediana e la linea dell'attacco quindi è un modulo molto difensivista quello che si è visto quest'anno con la reggiana tant'è che la reggiana se si va a vedere poi anche poi i risultati ottenuti ha fatto meglio in trasferta piuttosto che in casa dove in casa ha registrato solamente 3 vittorie su 19 partite 11 pareggi e 5 sconfitte mentre in trasferta sono state ben 7 le vittorie con 6 pareggi e 6 sconfitte il dato che balza all'occhio è quello dei gol fatti e dei gol subiti cioè in 38 partite ha segnato 38 gol quindi la media spaccata di un gol a partita ma ne ha subiti solamente 45 con tanti clean sheet registrati quindi è una reggiana che si è impostata sull'aspetto difensivo cioè sul non prenderle piuttosto che darle tra l'altro nella parentesi in Coppa Italia ha eliminato proprio il Monza il Monza in casa sua che fu eliminato 2 a 1 dalla reggiana che poi invece ha interrotto la sua corsa al turno successivo contro il Genoa però un'impostazione di gioco che può parzialmente ricordare quella del Monza perché anche il Monza ha giocato con il 3-5-2 è quasi la stagione scorsa piena quest'anno diciamo per buona metà della stagione ha giocato con il 3-5-2 però con un sistema di gioco molto più offensivo cioè l'anno scorso gli esterni centrocampo erano Shurria e Carlos Augusto che erano giocatori spudoratamente di spinta c'era Caprari quest'anno spesso il Monza ha giocato con la coppia d'attacco con Colombo Dani Mota con Diuric Dani Mota con Colpani che a volte ha giocato insieme a entrambi quindi creando poi un assetto che era più simile a un 3-4-2-1 dove poi i centrocampisti sono stati spesso centrocampisti comunque di intensità perché Gagliardini è un centrocampista che fa grande lavoro di rottura che mette ordine ma non è un regista è un giocatore che ti mette ordine ma che ti fa rottura nel giro di ritorno è cresciuto enormemente Bondo che è un giocatore spudoratamente e pienamente di rottura comunque di intensità Pessina è un giocatore tecnico che abbina tecnica e dinamica però è un giocatore che ha un altro ruolo nasce trequartista quindi è un Monza che nonostante si sia schierato con il 3-5-2 ecco l'unico tratto distintivo in comune che si può trovare con la reggiana di Nesta è la difesa dove comunque il Monza è una squadra che difende con calciatori con caratteristiche simili a quelle che Nesta ha avuto alla sua reggiana però è un Monza che gioca uomo che gioca con la pressione a uomo mentre invece la reggiana non gioca a uomo ma gioca a zona quindi è un sistema difensivo differente però siamo sempre lì cambia anche l'obiettivo è da capire se il Monza il prossimo anno magari non dico abbassa un pochino il livello però pone come obiettivo la salvezza io penso cioè il Monza più volte è stato dichiarato anche quest'anno nonostante fosse salvo già a novembre perché stava facendo un gioco è andata di alto livello dal punto di vista proprio dei risultati dal punto di vista dei punti della classifica però è stato specificato più volte anche insomma dalla dirigenza che il Monza puntasse la salvezza avesse come obiettivo la salvezza questo è stato proprio l'obiettivo dichiarato quindi l'obiettivo che avrà il Monza il prossimo anno in serie A è molto simile in realtà a quello che ha avuto la reggiana in serie B la differenza è che la reggiana era neopromossa e aveva tanti calciatori in prestito mentre invece il Monza parte con un'ossatura di squadra consolidata che viene da due ottime stagioni da metà classifica tranquilla e con un assetto di gioco che è già simile a quello che 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 Nesta ha fatto alla reggiana come giocherà il Monza il prossimo anno ecco veniamo a come secondo me verrà impostato il mercato e come verrà impostata la squadra io penso che la difesa a tre sia un po' più sicura passatemi questo termine rispetto alla difesa a quattro è una difesa che ti garantisce contro le squadre che giocano col tridente di poter schierare un uomo su ogni giocatore offensivo della squadra avversaria è un sistema di gioco che in fase di sofferenza ti può permettere di diventare a cinque se gli esterni scendono quindi è comunque un modo di giocare che secondo me è un pochino più tutelante rispetto ad altri moduli e un Monza che comunque parte con l'obiettivo di salvarci come un allenatore esordiente secondo me partirà con quel modulo nonostante si dica che comunque il Monza negli ultimi mesi ha provato un altro modulo cioè il 4-2-3-1 però non deve passare inosservato che il Monza col 4-2-3-1 ha fallito miseramente ha fallito il Monza ha fallito Palladino cioè il Monza è stato performante è stato all'altezza con il 3-5-2 o 3-4-2-1 in base a chi giocasse a centrocampo perché quando giocavano Maldini Colpani Carboni questi qui sono più giocatori tendenti alla fase offensiva quindi si può pensare sia più un 3-4-2-1 mentre invece se giocano Pessinac Pac Pro e Gagliardini chiaramente è un 3-5-2 quello dipende anche dagli interpreti in campo però grosso modo ecco cambia di cambia di 15 metri se la mezzala gioca un po' più avanzata però poi l'assetto è quello lì io penso che il Monza si schiererà con il 3-5-2 è da vedere se Nesta si è affezionato tra virgolette all'idea del doppio regista o comunque del doppio giocatore di ordine davanti alla difesa perché se si è affezionato a questa tematica il Monza deve fare un mercato impostato su questa preferenza del suo allenatore perché il Monza di giocatori con queste caratteristiche non ne ha ha tanti calciatori di corsa di intensità ma calciatori che hanno la caratteristica proprio di dettare i tempi di gestire il pallone non ne ha quindi dovrebbe andare sul mercato a prenderne due tre quindi sarebbe una direzione imposta sul mercato abbastanza importante non è una cosa da poco certo è che i calciatori come Pessina ad esempio potrebbero essere messi più avanti dove ad esempio quest'anno hanno giocato Melegoni e Portanova che molto spesso hanno giocato appunto come sottopunta come raccordo tra l'attacco e il centrocampo un lavoro che Pessina potrebbe fare benissimo e che ad esempio al Verona e all'Atalanta faceva ma anche il Nazionale ha sempre giocato in quella posizione con il Monza rispetto anche l'anno scorso giocava un po' più avanzato quest'anno invece è calato di baricentro e ha giocato molto più vicino al reparto difensivo piuttosto che a quello offensivo sono cambiate le mansioni per un giocatore che sa fare quel lavoro lì anzi forse nasce più più adatto per fare quel lavoro lì quindi in realtà probabilmente lo mette anche più a suo agio però ecco io non mi aspetto uno stravolgimento non credo che Diuric possa essere il riferimento della squadra al di fuori del fatto che è un giocatore che comunque ti dà una grande mano quando sei quando stai soffrendo cioè Diuric è secondo me l'attaccante perfetto quando imposti la partita sulla sofferenza totale giochi contro una big nostra una gioia contro l'inter decidi di giocare difendendo e appallate dalla difesa Diuric è chiaramente un'arma perché è un giocatore che ti può difendere palla ti può conquistare calci di punizione che ti può essere letale magari in quelle circostanze da palla inattiva è un giocatore che comunque ti dà una variabile importante quando invece però vuoi impostare la partita differentemente Diuric non è un giocatore molto tecnico non è neanche molto mobile e quindi magari una coppia formata faccio per dire da Dani Mota e Caprari è una scelta di formazione che ti può permettere di essere un po' più giochista un pochino anche più imprevedibile nei movimenti nell'attacco degli spazi anche nell'aprire gli spazi ai compagni che possono essere gli esterni perché io mi aspetto che ad esempio Churria venga rispolverato da Nesta perché è un giocatore che comunque il primo anno in Serie A del Monza aveva fatto grandissime cose quest'anno è completamente scomparso e invece è un giocatore da cui io mi aspetto di più e che magari con Nesta può crescere anche se Nesta la Reggiana ha dimostrato che come Stani Centroampo predilige i terzini non i giocatori di pura gamba però Churria quando ce l'ha in squadra è un valore che tra l'altro quest'anno si è svalutato quindi non conviene neanche al Monza venderlo è controproducente vendere un calciatore che ha dimostrato di saper fare tante cose nell'anno in cui fa male per il Monza è controproducente venderlo tu Nesta arrivi al Monza giochi con il 3-5-2 ti trovi Churria e Rosa lo devi valorizzare comunque sta anche a te io sono d'accordo che lo dico sempre sul mio canale che quando una dirigenza punta su un allenatore e poi l'allenatore esplica magari delle sue preferenze dal punto di vista delle caratteristiche tecniche di alcune zone del campo che lui richiede la dirigenza debba fare il possibile per accontentarlo nei limiti del budget delle spese che può fare e tutto il resto e anche di situazioni magari calciatori in rosa che chiedono la cessione situazioni di questo tipo la dirigenza però deve fare il possibile per accontentare l'allenatore quindi se Nesta arriva e dice io voglio giocare col doppio regista il Monza deve fare il possibile per poterlo accontentare questo secondo me è giusto d'altro canto però bisogna sempre sottolineare che anche tu allenatore che arrivi in una squadra che non è Real Madrid che si può permettere di spendere 100 milioni più di un giocatore dopo tre giorni lo mette fuori rosa se hai dei calciatori nella rosa che sono di valore sono calciatori importanti devi trovare un modo per metterli al loro agio e giocare su di loro devi trovare anche questo modo qua io faccio sempre quando parlo insomma con i miei amici di pallone faccio sempre l'esempio dei giochi di carte collezionabili che facevo da ragazzino i classici giochi tipo Magic Yu-Gi-Oh Pokémon Duel Master eccetera eccetera ecco queste carte qua quando tu aprivi la bustina e trovavi dentro la carta ultra rara fortissima anche se avevi un mazzo pensato per una certa strategia su una certa classe un certo elemento eccetera eccetera però poi trovavi nella bustina una carta fortissima di un determinata cosa cambiavi il mazzo per fare in modo che quella carta ci funzionasse perché non potevi sprecare la fortuna che avevi avuto nell'aprire quella bustina e trovare una delle carte più forti magari di quella generazione di carte e non metterla nel mazzo perché ah vabbè ho trovato una carta forte di fuoco ma io ho il mazzo di acqua trovavi il modo di mettere quella carta nel mazzo è la stessa cosa deve fare un allenatore cioè se è un allenatore che esordisce in seria vai a allenare il monza hai dei calciatori che magari ti rimangano perché non vengano ceduti no? ciurria molto probabilmente non verrà ceduto devi trovare il modo di rivalorizzarlo è per forza cioè è comunque anche tuo compito è compito la dirigenza farti una squadra che ti possa mettere a tuo agio ma è anche compito tuo valorizzare il materiale a disposizione della squadra quindi sono comunque bisogna vederlo da tutti e due i lati se no se arrivi e dici voglio ambiare tutti 11 voglio 11 mi garbano a me sono bravi tutti a allenare così quindi mi aspetto che Palladino possa anche recuperare qualche calciatore che è andato un po' perso un altro giocatore interessante che potrebbe essere recuperato da Palladino è Antov Antov che l'anno scorso ha fatto pochissimo con il Monza quest'anno ha fatto un buonissimo campionato di serie piccola cremonese in prestito dovrebbe rientrare al Monza un giocatore recuperabilissimo ad esempio un altro giocatore interessante che si può recuperare come si può non dico recuperare perché Kiriakopoulos ha giocato tanto quest'anno però non ha giocato bene è un giocatore che può fare molto di più ci sarà Caprari da recuperare vabbè lui è stato rotto quest'anno non è che sia stata colpa di Palladino ci mancherebbe però insomma il Monza ha dei giocatori che non hanno reso per motivi fisici o per motivi tattici quanto potrebbero ecco mi aspetto che Nesta possa recuperare questo genere di calciatori però poi mi aspetta anche un mercato che possa andare nella sua direzione quindi che possa portare due centrocampisti di possesso di giropalla e che possa portare magari anche un difensore un po' più tecnico ecco rispetto a quelli a disposizione del Monza a parte che Pablo Marino non è male sotto questo fondamentale però qualcosa di meglio secondo me si può fare in quella circostanza quindi mi aspetto un Monza che continuerà a giocare con il 3-5-2 che tornerà al 3-5-2 perché le ultime dieci giornate di campionato ha giocato con il 4-2-3-1 però mi aspetto che il Monza possa tornare con il 3-5-2 io vi dico la verità sul Nesta sono abbastanza fiducioso io non penso che farà male poi allora io reputo il Monza come Rosa inferiore a quello che è stata la sua classifica di queste due stagioni cioè secondo me il Monza non è una squadra più forte dell'Udinese per dire cioè è una squadra che per Rosa dovrebbe lottare per non retrocedere poi si è ritrovata grazie anche a un ottimo lavoro fatto da Palladino soprattutto il primo anno a non rischiare mai di retrocedere il Monza non si è mai ritrovato invischiato nella lotta salvezza proprio perché con Palladino ha sempre iniziato talmente bene la stagione anche nell'anno in cui è subentrata Stroppa che le aveva perse tutte fino a quel momento 6 partite aveva fatto Stroppa 6 sconfitte nonostante fosse partita 0 punti le 6 partite dopo 15 era già fuori dalla zona di retrocessione quindi nel senso Palladino ha sempre fatto molto bene quindi il Monza non si è mai ritrovato invischiato però secondo me come valore della Rosa dovrebbe essere invischiato e io mi aspetto un Monza che il prossimo anno rischierà un po' di più io mi aspetto questo poi c'è il mercato di mezzo cioè se chiaramente il Monza tiene tutti meglio e compra 3-4 giocatori interessanti su cui deve fare anche un upgrade Galliani perché Galliani è stato un grandissimo direttore sportivo al Milan però il Monza però il Monza deve cercare di o di pescare qualche giocatore un pochino più più esplosivo dalle leghe inferiori cosa che comunque è riuscito a fare o se no fare un minimo un minimo di scouting estero un minimo non sto dicendo di trasformare la squadra in stranieri però un minimo di scouting estero si può anche fare perché comunque prendere sempre solo giocatori dal campionato italiano è anche dispendioso a livello economico perché è un campionato insomma oneroso cioè investire nel campionato italiano comprando calciatori dalle società italiane costa tanto quindi un minimo di lavoro anche sotto quel punto di vista per magari cercare il giocatore straripante quel calciatore che magari paghi poco e poi ti arriva e ti stravolge la rosa può essere comunque un'opportunità io penso che però il Monza non dovrebbe fare un tracollo io sono abbastanza fiducioso sul Nesta penso che sia una scelta ponderata come vi ho detto prima perché è un allenatore che comunque il suo bagaglio di esperienza ce l'ha non è un'esperienza negativa chiaramente c'è un cambio di categoria e come tutti i cambi di categoria quando c'è un salto di questo tipo ci sono dei punti di domanda però come si può parlare di punti di domanda con Tiago Motta alla Juventus si poteva parlare dei punti di domanda con Inzaghi all'Inter si può parlare dei punti di domanda quando Sarri andò al Napoli cioè quando un allenatore qui si sta parlando di allenatore in realtà vale anche per i giocatori ma quando un allenatore fa un salto importante di categoria lottare per i playoff in serie B o lottare per la salvezza in serie A e vale come lottare per la salvezza in serie A lottare per la Champions in serie A cioè salta affatto Baroni dal Verona all'Ecce e queste squadre alla Lazio secondo me è ancora più grosso di quello che fa Nesta tra la serie B e la serie A cioè considerando il rendimento che ha avuto Nesta e quello che ha avuto Baroni quindi secondo me c'è comunque dei fattori di rischio però rispetto ad esempio alla scelta di Baroni alla Lazio che su cui io mi riservo molte più perplessità molti più dubbi molte più insomma amnesie su quello che potrebbero essere il rendimento di Baroni a Lazio sul Nesta sono un pochino più fiducioso perché vedo anche un tratto di continuità cioè comunque il Monza è una squadra che ha fatto tanto bene con il 3-5-2 vai a prendere un allenatore che con lo stesso modulo con un sistema di gioco comunque difensivista che è comunque quello che ha fatto il Monza diverso perché ribadisco il Monza con Paladino difendeva Uomo con i duelli proprio a tutto campo mentre invece Nesta imposta più sulla difesa zona cambia magari il modo di impostare però anche il Monza è sempre stata una squadra che se vince spesso vince 1-0 e non 4-3 cioè quello voglio dire quindi comunque si sta parlando di una scelta di continuità di una scelta di continuità prendendo un allenatore che ha delle idee di gioco non dico uguali però similari a quello dell'allenatore che è appena andato via e ha fatto molto bene e c'è una scelta di continuità anche nello scegliere allenatori emergenti giovani alle prime armi magari a questi livelli però c'è c'è la fiducia anche nei confronti dell'uomo perché comunque quando tu hai preso Palladino era l'allenatore della primavera quindi tu già lo conoscevi prendi Nesta l'hai avuto per 10 anni come giocatore parlo di Gagliani l'hai avuto per 10 anni come giocatore quindi comunque lo conosci c'è anche questa cosa dello scegliere l'uomo oltre che il professionista ed è una cosa giusta cioè è una cosa che finora ha pagato quindi potrebbe continuare a pagare cioè io comunque vedo una scelta del Monza che è in linea con quello che il Monza ha fatto in questi anni e quindi è condivisibile per me è una scelta giusta poi si poteva fare di meglio ma forse sì però sarebbe stato probabilmente contro la filosofia di calcio del Monza che ha portato il Monza a questi livelli per cui secondo me è una scelta che ci può stare io Nesta penso possa fare bene magari non benissimo non mi aspetto un exploit clamoroso né da parte in Est né da parte del Monza però mi aspetto una squadra che lotterà per il suo obiettivo credibile che è la salvezza poi chiaramente come ho detto in tutti i video Paladino a Fiorentina a Baroni alla Lazio Conte a Napoli italiano a Bologna trovate tutti i video sui nuovi allenatori ufficiali in Serie A il mercato lo fa da padrone perché se il mercato ti porta giocatori di un certo calibro chiaramente può cambiare anche la valutazione cambiano le aspettative cioè il mercato è fondamentale se no si parla del nulla però se il campionato iniziasse oggi con questa squadra io penso che il Monza con Nesta potrebbe tranquillamente lottare per la salvezza e avrebbe tutti i mezzi per poterlo fare quindi io sono abbastanza fiducioso è una scelta che condivido non è una scelta esotica non è una scelta che ti fa urlare al miracolo però è una scelta in linea con il modo di lavorare di questa società e che quindi complessivamente condivido tra l'altro ringrazio Galliani per aver atteso ecco per aver temporeggiato sull'ufficialità perché mi ha dato la possibilità di avere la maglia qua dietro perché la maglia mi è arrivata ieri l'altro quindi se avesse ufficializzato Nesta settimana scorsa avrei fatto il video senza maglia non sarebbe stato uguale insomma mi piace avere la maglia dietro della scuola di cui parlo non ce le ho tutte assolutamente però qualche maglia comincio ad averla anche io quindi anche così per una questione proprio estetica e sarà la sesta zanzara che ammazzo in questo video insomma anche per una cosa estetica è bellino avere la maglia dietro molto bene il mio video si conclude qua io mi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate insomma di questa scelta di Nesta al Monza come pensate che possa cambiare la squadra come pensate che il Monza imposterà il mercato e il campionato prossimo che siate d'accordo o meno con me insomma scrivete nei commenti leggo e rispondo sempre a tutti iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi ma anche magari per farmi capire che vi interessa il Monza perché è una delle squadre meno seguite sul canale quindi anche durante il campionato che si è appena concluso insomma se giocava al Monza e giocava un'altra squadra tendevo a dare la priorità ad un'altra squadra perché era più seguita però se poi vedo che in realtà anche i tifosi del Monza vengono sul canale parlo anche del Monza l'ho trascurata spesso proprio perché è stata poco seguita ma io seguo il feedback del canale quindi se siete interessati a video sul Monza fatemelo sapere io accolgo la richiesta e cerco di accontentare tutti iscrivetevi come dicevo prima al canale se non lo siete già per supportarmi quando vedete il video con chi pensate possa apprezzare questo genere di contenuti potete chiedermi anche cose specifiche mi è già stato chiesto il video su Zanetti al Verona mi è stato chiesto il video su Ludinese mi sono stati già chiesti i video ce li ho in programma appena sono ufficiali porto gli allenatori aspetto l'ufficialità ad esempio ancora non è ufficiale botta alla Juve è stato annunciato ma non è ufficiale sto aspettando le ufficialità appena arrivano le ufficialità vi porto tutti i video sugli allenatori sono già tutti in programma però se avete altre richieste di qualsiasi tipo potete scrivermele o nei commenti oppure in privato vi lascio in descrizione i link ai miei canali social se volete iscrivermi in privato noi ci vediamo come sempre ai prossimi video un caro saluto a tutti ciao